Musica Ottava giornata di campionato della Lega 2 Silver Sfila tra Benacquista, Assicurazioni Latina e Remer Treviglio Partita che parte subito forte, ancora Yedioha, dall'arco Yedioha, tripla di Yedioha Da sotto fallisce Yedioha, poi la grande azione di Treviglio Prova ad andare dentro molto bene, Gaspardo, due punti Nardi prova a farsi largo, sempre raddoppiato Nardi, poi va fino in fondo Scarica per Austin, attaccate regolarmente, canestro e fallo Entrambe, Uglietti Uglietti, prova la tripla Uglietti, a segno Lorenzo Uglietti Per Yedioha Tenuto Yedioha da Gaspardo, va fino in fondo però Yedioha trova un gran canestro Ultima azione, Cantone per Uglietti Uglietti va fino in fondo Uglietti Pallone nella retina Marino prova dalla lunghissima distanza, Marino che tripla Marino prova a tenerlo Uglietti, il miglior difensore di Latina Marino però è in gran giornata per Treviglio E allora Latina, Austin la bomba, a segno! Kyle Austin, il pari di Latina Marino, Marino prova ancora la tripla, Marino a segno Poi Nardi fino in fondo, rovesciato questo canestro Che viene chiuso da tre giocatori avversari Austin, Nardi Prova la tripla, Nardi a segno! Quante emozioni, Marino ci prova ancora, risponde subito Tommaso Marino Nardi, prova ad andare dentro Nardi Prova il canestro rovesciato, non va ma rimbalza di Austin Che prova ancora, pallone corto Ancora una possibilità, è per Nardi all'ultimo secondo Pallone sul ferro, vince Treviglio, 92-89